Come si è in una società difficile come quella di oggi, con una serie di problemi? Purtroppo si parla troppo spesso di fatti o episodi negativi e non di tutti quegli aspetti positivi che ci sono. Quindi il ruolo della stampa è un ruolo molto delicato. Ovviamente per parlare, per raccontare bisogna conoscere e quindi la stampa deve impegnarsi sempre di più a tirar fuori dal mondo di oggi quelle cose buone che possano essere d'esempio per una società che vive una serie di problemi che ben tutti conosciamo, non solo di natura economica, problemi di aggregazione, problemi di dipendenza da questi strumenti moderni dei social che sono utilissimi per certi versi ma diseducativi per altri. Quindi il ruolo della stampa è molto importante. Quindi questo premio che vuol puntare soprattutto sul raccontare le belle storie, le belle notizie, credo che sia un premio assolutamente importante. Questa è proprio l'energia positiva. E essersi avvicinata a un'azienda così importante, essersi avvicinata ai valori veri per cercare di tirarli fuori e rafforzarli nel modo migliore, credo che sia un'iniziativa lodevole e importante e credo che sicuramente produrrà oggi ma soprattutto in futuro anche dei successi perché puntare oggi su una crescita responsabile dei giovani significa creare le premesse per una società del domani sicuramente migliore. Grazie 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 Grazie